eccoci qua questo pezzo scritto ieri trovate già su mr helmet lo registro anche oggi come video magari sarà più facile per qualcuno seguire volevo parlare della superbike che è KO al primo round e la salvezza passa dai risultati le voci di corridoio girano già evidentemente da un po e sono in eredità della stagione 2016 insomma e anche prima se non succede qualche cosa di preciso a livello dello spettacolo e dei risultati serve il pacchetto insieme di due la superbike rischia di vedersela brutta più brutta di quanto stia accadendo nell'ultimo periodo lo show ricercato con l'inversione in griglio dopo gara 1 senza l'imprevedibilità del risultato non ha senso non serve per farla breve non importa cosa succede in gara se poi alla fine vince sempre johnny ray la superbike non è la moto gp dove i cicli sono auspicati benedetti e conta che alla fine vinta il pilota giusto con mille e milla rocambolesche vicende da lieto fine insomma per un pubblico che un pubblico di intenditori non è la superbike non è il wrestling dove se il pilota è quello giusto può prendere le botte per una sera basta che alla fine poi vinta quello delle derivate di serie è il campionato che dovrebbe essere dell'imprevedibilità vera delle vittorie inattese degli inattesi delle situazioni tipo anthony west che con un motore prestato alla fine fa la wild card e sale sul podio diciamo dei po di vari opinti con piloti privati con delle tutte strane insomma magari l'eroe locale è un po che questo non succede ma almeno fino a qualche tempo fa c'era la parvenza della della situazione cioè c'era l'idea che potesse effettivamente succede invece adesso è tutto scontato la regola dell'inversione in griglia non funziona per prima cosa ammazza inevitabilmente uno dei contendenti tom sykes e non sembra neanche avere la stessa moto direi uno che lavora tutto il weekend per sfruttare uno dei suoi punti di forza forse il punto di forza più evidente che è partire davanti e sperare di tenere in fuga sempre se qualcosa va male con lui tutti quelli come lui con questo meccanismo sykes è spacciato al 50 per cento perché quello che fa in prova e poi vedremo che prove non serve quasi a niente e con lui tutti quelli come lui cioè piloti da superpole girosecco che sono stati sempre premiati dalle derivate di sé nel caso del primo round in australia si è visto che la regola non ha cambiato le cose a solo stiracchiato ritardato un po gli eventi rimandando quello che comunque doveva succedere a parte qualche caso illustre di cui sopra rei e davis sono stati davanti comunque in mezzo a queste cose che sarebbero accadute comunque sono trovate dentro delle variabili come l'os forest a far casino tanto di cappello comunque i due ma è finita comunque come sarebbe finita in ogni caso quindi non è da qui che si spreme lo show perché show e casino sono due cose diverse se non riesce ad uscire dal tunnel diceva una battuta di qualche tempo fa non so di chi arredalo cioè chi pensa che la monotonia sia rei e se ne deve fare una ragione non è non facendo vincere rei e le cose possono cambiare se la regola è uguale per tutti rei continuerà a emergere adattandosi alla regola stessa tanto più che bravo come giusto che sia nessuno mi toglierà dalla mente che jonathan rei giri all 80 per cento per non rompere il giocattolo che possa dare lo strattone quando serve si vede alla fine del campionato scorso dove per non far incazzare pirelli stava attento attento quando la gomma non era quella giusta per lui chiudeva un po il gas il tutto senza rischiare niente perché è il campionato delle regolarità questo e qualora prendesse qualche sberla rei arrivando secondo appunto sarebbe veramente poca cosa bisogna imparare a sfruttare i record e le regolarità di rei come si sfrutterebbe quella di un valentino rosso in moto gp negli anni d'oro cioè ovviamente senza forzare senza fare in modo che queste accadano cioè se il personaggio è naturalmente inequivocabilmente più forte bisogna lavorare sul personaggio se non vuole farsi lavorare troppo come personaggio vedi stoner eccetera lavorare sull'impietosità dei suoi numeri e con john e lei ci siamo in pieno poi c'è milandri che è l'investimento di dorna e di mediaset in realtà di mediaset con un po di pazienza potrebbe essere un rimedio naturale contro lo strapotere di rei tanto più che melandri è l'unico vero nome noto della superbike se tu prendi un taxi per andare al circuito non sanno chi è sykes non sanno chi è forse rei però sanno chi è melandri e melandri potrebbe arrivare dove davis non è ancora riuscito ad arrivare del resto melandri su davis come compagno di squadra l'ha sempre spuntata alla fine tutto però attenzione purché non lo si pompi troppo perché tutto ci serve tranne che un'altra sky di serie b schierata di parte in più provinciale con immagini e mezzi inferiori e tutto sarebbe ancora più forzato ma la domanda è serve davvero tutto questo casino queste congetture questi rimedi artificiali o gm sono utili veramente forse ma fino a quando non si vorrà trovare la soluzione unica e funzioni davvero non servono gli antibiotici da inversione di gara il doping il cortisone delle gare in due giorni ma il quello che sportivamente sarebbe l'equivalente del rimedio della nonna ossia una cosa che hanno capito trappertutto tranne quelli che dovrebbero fare scuola ossia la superbike quello che serve è la superpol col giro secco e differenzi la superbike dagli altri sport e faccia via sia spettacolo in se stesso per il giro a vita persa cosa che attualmente non succede più con minuti e minuti di giri poi inutili e la centralina unica che renda le derivate di serie derivate di serie davvero e non per finta questo è secondo 下 un un sì è uno